È terminato il restauro dell'orologio astronomico del Palazzo di Fraternita dei Laici in Piazza Grande e quindi è stato riaperto al pubblico. L'impegno è stato rispettato, afferma il primo rettore Pierluigi Rossi. Ringrazio Tommaso Sensini e Studio 3 per l'ottimo lavoro realizzato che ha consentito di recuperare colori, immagini, linee del quadrante dell'orologio nascoste dai secoli e dai precedenti restauri. Un grazie anche ad Ancos, confartigianato in prese Arezzo per il sostegno economico dato per il pieno recupero dell'orologio. Sarà pubblicata, annuncia ancora Rossi, una brochure sulla documentazione artistica del restauro e sarà aperta prossimamente una mostra su tutti i documenti cartacei scritti proprio sull'orologio nei secoli, custoditi nell'archivio storico presente nel Palazzo di Fraternita. La mostra sarà poi inserita in un progetto culturale incentrato su Giorgio Vasari che progettò la vela che ospita l'orologio dal 1552. Nel 2024 ricorreranno i 450 anni dalla sua morte e l'orologio sarà dedicato proprio a Giorgio Vasari.